Il primo tempo c'è stata reazione, i ragazzi mi hanno sicuramente dato a fondo tutte le loro energie per cercare di contestare il risultato. A partita che stava viaggiando su dei binari sostanzialmente equilibrati, è stato quello che ha cambiato il suo corso, è stato un fortuna perché ciò del fondo è stato un'attualità, è stato un'attualità, è stato un'attualità. Dopo noi sapevamo che loro erano bravi a questo tipo di situazioni, la presenza è molto solida, compatta, vorrei ripartire, io credo che i ragazzi mi hanno fatto una gara tagliata, abbiamo provato, non siamo riusciti a raddressarla, cerchiamo di guardare avanti, il 30 mila di positivo che sono appunto questa grande determinazione, questa voglia anche delle difficoltà di cercare di ribaltare le situazioni. Viste che idea di tenere in panchina Melante e Borone, quindi di ripusare all'altamento, in realtà non ha pagato, è proprio quando sono entrato l'0-2 che fu lì è iniziato a creare l'unica palla a gol. Diciamo che avevamo preparato un altro tipo di partita che fondamentalmente iniziava prima e cambiata con il primo gol. Secondo me i ragazzi che sono entrati hanno fatto bene, gli altri che giocavano stavano cercando di farla a loro parte, io credo che fondamentalmente nella seconda parte siamo riusciti anche per voglia, per orgoglio a creare un buon forcing, un forcing finale, complice anche sicuramente un loro calo, perché loro hanno fatto una prima parte di gara molto intensa. Se dicevo prima, se ci sono delle responsabilità sono io prima a metterci la faccia, adesso io la scelgo, però di quello che ha fatto la squadra sono soddisfatto.